Rischiava di non farcela ma oggi la scuola Fusinato di Valle di Castelgomberto è salva riuscendo a raggiungere il numero di 15 iscritte la classe prima. Numero vitale per salvare il plesso scolastico della frazione per l'anno scolastico 2021-2022. Obiettivo centrato grazie al comitato genitori e al singolare impegno delle insegnanti. Le insegnanti hanno realizzato un video proprio per promuovere la scuola e non potendo visitare la scuola in presenza è stato fatto diciamo un open day virtuale. La scuola di Valle ha una lunga tradizione e rappresenta per la comunità un importante punto di riferimento. Attualmente nella scuola vi sono 74 alunni suddivisi in 5 classi, una scuola tutto sommato piccola ma assolutamente autonoma con palestra, mensa e proprio grazie ad un numero adeguato di studenti è possibile quasi una didattica individuale. Nella scuola di Valle vi sono insegnanti di ruolo, di inglese, di sostegno, di religione e anche collaboratrici scolastiche. La scuola Fusinato è un presidio importante, diventata riferimento non solo per i bimbi di Valle ma anche di Castelgomberto, Brogliano, Creazzo e Sant'Urbano di Montecchio. La scuola per una comunità come Valle è un simbolo, un segnale importante di vita della comunità che continua a vivere, che continua a svilupparsi e deve continuare a crescere.